Ma vi siete mai chiesti come fa a restare ferma una piattaforma petrolifera in mare aperto? È una bella domanda e cerchiamo di capire insieme come è possibile. Non esiste un unico metodo, anche perché la profondità del fondale, sistemi di correnti e altri fattori meteorologici possono influenzare le varie scelte. Le piattaforme possono essere fisse, con piloni in cemento o acciaio fissati direttamente al fondale. Possono essere fisse con supporti flessibili, in grado di assorbire la forza del vento o delle onde, e ci sono poi delle strutture galleggianti tenute da tiranti, che possono essere sia fisse che mobili. Queste sono le tipologie principali, ma le varie compagnie sono sempre alla ricerca di soluzioni più performanti. Come saperne di più? Seguendo Ingegneria Italia.